Dopo le proteste e le prese di posizione del Comune di Berceto, che abbiamo già fatto, a dire il vero, già da alcuni anni, due anni fa, addirittura in piazza, in pieno agosto, con tutti i cittadini, una manifestazione di protesta nei confronti della RAI, visto la cattiva ricezione dei loro segnali e dei pochi canali che arrivano, nonostante che oggi il canone sia pagato da tutti attraverso la bolletta elettrica, come ormai abbiamo saputo. Io credo che sia giusto protestare contro la RAI, perché è un servizio pubblico, che hanno l'obbligo di distribuirlo a tutti i cittadini, di non fare differenze fra i cittadini, i cittadini di montagna invece subiscono questa differenza, pagano il canone e non vedono i canali RAI, non vedono neanche i tre diritti, cioè RAI 1, RAI 2, RAI 3, quindi ancora meno gli altri sette canali che la RAI ha detto di mettere a disposizione degli utenti. Abbiamo iniziato a protestare, questa protesta si sta allargando a macchia d'olio su tutta la provincia di Parma, anche a Borgotaro c'è una petizione sia online e probabilmente anche cartacea. Noi ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo approvato un ordine del giorno che faccio avere ai deputati di Parma, quindi all'onorevole Maestri, all'onorevole Romanini e al senatore Pagliari, oltre che alla stessa RAI, oltre che all'organizzazione dei comuni, a Lanci, all'UNCEM, a tutte le organizzazioni, perché dobbiamo essere sostenuti nel far rispettare un diritto che viene calpestato dalla RAI. Grazie. 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 Grazie.